Sono Alessandro Salvioni, responsabile del pronto soccorso della cardiologia d'urgenza del centro cardiologico Monzino. Il nostro pronto soccorso è l'unico esempio in Italia di struttura d'urgenza specificatamente dedicata alle patologie cardiovascolari. Nel corso dell'ultimo anno circa 10.000 pazienti sono stati valutati presso di noi e nel 20% dei casi sono stati giudicati meritevoli di un ricovero presso la nostra struttura rappresentando circa un quarto dei ricoveri totali. Le patologie più frequentemente osservate sono costituite dallo scompenso cardiaco, dalle aritmie cardiache e dalla cardiopatia ischemica, vuole a dire angina e infarto. Per rendere la diagnosi del dolore toracico più precisa ed accurata abbiamo messo a punto uno specifico interdiagnostico terapeutico.